ciao amici stamattina sono stata al mercato del pesce a milano un posto che io adoro se siete in zona milano andateci guardate ho comprato vabbè tranci di spada di tono rosso calamari polipo cozze sarde sono due chili e questi che vi voglio fare vedere e che saranno l'oggetto del nostro video di oggi sono i palamita sono della famiglia dei tonnetti e considerate ragazzi sono ancora da eviscerare però me li hanno messi a 5 euro cada uno pesano un chilo e due cada uno cosa dite mangiare pesce si è vero ci sono i tranci di pesce nobili ma con un semplice palamita mettiamo insieme un piatto strepitoso con tantissimo gusto pieno di salute e veramente ad un costo irrisorio questa può sembrare una fase un po' cruenta ma vabbè è fondamentale quindi un bel palamita un sacchetto per me lo con dentro già un po' di carta cucina una forbice e iniziamo a pulire a tagliare la pancia per andare a togliere ecco questa era una femmina perché ha anche tutte le sacche delle uova vedete ok ora vado un attimo a sciacquare sotto l'acqua perché la caratteristica del palamita è che avevano delle carni molto rosse di sangue all'inizio poi diventerà chiarissimo però appunto vado a dargli una prima sciacquata ho pulito i miei palamita dall'interiore teniamoci sempre un po' di carta cucina a portata di mano perché come vedete per quanto io lo abbia sciacquato tantissimo perde ancora rilascia ancora siero e sangue quindi magari ogni tanto lo tamponiamo prendiamo ancora il nostro coltello giriamoci il pesce andiamo dalla parte di qua incidiamo e sfidettiamo in questo modo seguendo la branchia tiriamo dall'altra parte in questo modo alziamo la branchia vi passiamo alle spalle ok ora coltello più grosso andiamo piano piano vedete che la testa si è staccata tutto sommato molto facilmente si è un po fa impressione perché è molto rosso tutto quanto però è un pesce davvero buonissimo via la coda ok questo è il nostro altro palamita che adesso andiamo di nuovo tutte e due a sciacquarli per bene sotto l'acqua fredda ora iniziamo a prepararci una salamoia in una pentola bella larga non troppo alta dove potremo andare a mettere tutti i nostri filetti quindi io ho messo tre litri d'acqua devo andare a mettere circa 600 grammi di sale io ho fatto sale grosso e sale fino perché mi sono accorta di non avere abbastanza sale grosso quindi mio è un po un mix poi qualche foglia di alloro che andrò poi anche aggiungere nei vasetti una dozzina di bacchi di pepe e aceto di vino bianco mescoliamo dobbiamo portare a bollore la nostra salamoia quindi alzo al massimo la potenza della fiamma eccoci ci siamo abbiamo raggiunto il bollore adesso abbassiamo al minimo metto sul 3 e delicatamente vado ad adagiare i miei tranci di pesce ora non devo fare altro che lasciare sobollire piano piano per due ore abbondanti quindi dovete lasciare un coperchio sopra la pentola ci vediamo dopo eccoci con il nostro palamita cotto meravigliosamente e ora quello che dobbiamo fare è prendere i singoli pezzi con delicatezza scolarli un po e andare ad appoggiarli sopra un canovaccio dove sotto il quale ho messo degli altri canovacci perché dovrà piano piano lasciare un po del liquido adesso vado a metterli nel forno spento ovviamente e li lascerò lì tranquilli a riposare fino a domani mattina e ci vediamo domani bene oggi è domenica mattina io ho lasciato riposare il mio palamita come vedete sulla teglia come vi dicevo ieri sera tutta la notte dentro il forno spento ovviamente così che ha perso tutto il suo liquido in eccesso ora dobbiamo andare a pulirlo è un'operazione non complicata che va fatta piano piano prendendo un pezzetto per volta iniziando a metterci gli occhiali innanzitutto in modo da vederci un po meglio e dovremo avere cura di togliere tutta la pelle è una pelle molto molto sottile quindi non farete fatica non è certo un lavoro da fare tutte le settimane ma io trovo divertente anche provare a farci le cose in casa anche per capire ragazzi quanto effettivamente lavoro c'è dietro una preparazione tipo questa perché sembra facile magari quando mangiamo un prodotto qualcuno ci offre già pronto ma capire quanto tempo che lavorazioni quanto scarto anche ecco adesso andiamo piano piano ad incidere apriamo il nostro trancio la fortuna del palamita è che ha spine molto molto grandi quindi facili da togliere vedete com'è ben cotto un po come quando andiamo a spinare gli sgombri quando li compriamo già pronti ok mi sono lavata le mani e ho fatto un pochettino di ordine qua sul piano di lavoro adesso andiamo a riempire i nostri vasi bene esattamente la metà avevamo due pesci da un chilo e cento cada uno circa siamo a mille da un chilo e 40 grammi pulito netto quindi vedete quando vi dicevo prima capire anche quanto lavoro c'è dietro quanto scarto c'è dietro c'è da dire che questo palamita ieri io al mercato l'ho pagato 10 euro tutti e due pesci in tutto quindi una cosa estremamente fattibile però il lavoro è tanto lo scarto è tanto quindi apprezziamo anche quando troviamo qualcosa di già fatto ok quindi adesso iniziamo a mettere i nostri filetti date sempre un'occhiata che non ci sia qualche altra risca in giro e all'interno del vaso dovrebbe essere abbastanza grandi in modo che voi riusciate ad entrare con la mano poi qualche foglia di alloro tra un trancio e l'altro un po di pepe che è un conservante e andiamo avanti ad intasare in questo modo i nostri vasetti ancora una foglia di alloro sopra qualche bacca di pepe olio in questo caso è olio di semi di girasole non olio di oliva perché rischierebbe di rancidire scusate non riuscivo ad aprirlo ok perfetto ora ho preparato una pentola con già dentro dell'acqua vado a battere un attimo i vasetti in modo che se ci sono bolle d'aria da qualche parte vengano a galla metto i miei vasi a bagno adesso dovrò aggiungere altra acqua adesso li porto sul fuoco e li farò bollire per 40 minuti anche 45 in modo da pastorizzare bene e creare il sottovuoto all'interno ecco qua ho preparato alla fin fine tre bei vasi di palamita ora li terrò via li dovrò lasciare riposare per circa un mese prima di poterli assaggiare che dire amici è stato un lavoro impegnativo non difficile ma sicuramente lungo però alle volte è bello anche dedicare del tempo alle cose in questo mondo dove si cucina sempre di fretta dove si vogliono ricette dove in cinque minuti metto insieme un pranzo una cena per quattro persone ecco alle volte è bello anche dedicare del tempo ok se questo video ti è piaciuto iscriviti al mio canale clicca mi piace ed attiva la campanella e ci vediamo al prossimo video ciao